Con un finale da brivido, Max Biagi è bastato chiudere al quinto posto della gara 2 del Gran Premio di Francia, per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo della Superbiche. Il secondo titolo nella classe derivata per il campione romano, dopo quello del 2010. A 41 anni compiuti, la doppietta, con anche il titolo costruttori regalato all'Aprilia. Al termine di un campionato entusiasmante, concluso davanti a Sikes per un soffio, per solo mezzo punto in classifica davanti al britannico. Grazie per la visione!